Ecco il fischio finale ed ecco Arrigo Sacchi, Arrigo Sacchi la soddisfazione dall'anno scorso a quest'anno lo scudetto Sì, una grande soddisfazione per me, per questi ragazzi, per tutto questo pubblico, per il nostro presidente Sacchi se l'aspettava quando ha preso il Milan che la squadra esplodesse così ai suoi ordini? Qual è stato secondo lei il momento clou di questo campionato? Dopo il petardo con la Roma, lì abbiamo reagito da grandissima squadra Direi che lei è un allenatore sui generis, riesce dove gli altri forse non pensano neppure di arrivare Sì, ma a volte non riesco dove gli altri arrivano Grazie, complimenti e auguri L'1-1 finale regala al Milan di Sacchi lo scudetto, nove anni dopo quello della Stella Io rivela, non voglio che il Milan persa lo scudetto perché vengo da Reggio Calabria Da Reggio Calabria per me E io voglio che se ne vanno perché ho fatto 1500 chilometri Franco Paresi, Franco Paresi, allora Dieci anni fa eri un ragazzo e hai vinto lo scudetto e oggi? Oggi è una grande soddisfazione, abbiamo fatto felici tutta questa gente che lo meritavano Che cosa si prova? Essere capitano e a concludere una rimonta come questa? Penso che sia una grande soddisfazione, una grande impresa che abbiamo fatto, meglio di tutti Gullit soddisfatto di questo scudetto Soddisfatto di questo scudetto Bene, abbiamo celebrato dunque questo scudetto del Milan Un bravo anche a Gianni Vasino che come avete visto ha avuto un finale di campionato molto vaticoso Avendo avuto il coraggio, l'incoscienza di avventurarsi nello spogliatoio di una squadra che ha vinto lo scudetto Evviva! Grazie a tutti Da parte della squadra, da parte di tutti coloro che hanno collaborato a questo successo Un grazie a voi tutti Un grazie a voi che riempite sempre il nostro stadio Un grazie particolare ai ragazzi della Curva Sud Siamo orgogliosi Di avere dei giovani che credono ancora nei sogni Il Milan di Enrico Sacchi ha lasciato subito il segno Lo scudetto torna sulle maglie rossonere dieci anni dopo la vittoria della squadra di Rivera Ma il primo successo del Milan di Berlusconi ha un sapore diverso Un torneo vibrante che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino alla fine Una stagione in cui Van Basten, a lungo e infortunato, riesce a dare i primi assaggi del suo enorme talento Anche quest'anno le provinciali hanno dato sale al campionato Scompaginando copioni già scritti Il Pescara mette in vetrina il portiere Gatta Il Cesena dei debuttanti lancia Sebastiano Rossi, Rizzitelli e Alessandro Bianchi In una stagione in cui vengono proiettati sul palcoscenico della serie A Anche Costa Curta, Crippa, Tarza Nannoni, Di Mauro, Mussi, Di Francesco e Caccia A segnare la stagione anche le trecine di Gullit Con l'olandese protagonista dentro e fuori il campo, come in occasione della canzone incisa contro l'Apartheid Un campionato italiano dove soffia un'aria nuova Chiude definitivamente la sua esperienza nell'Inter Alessandro Altobelli Ma soprattutto, dopo oltre 16 anni, si chiude anche la lunga storia d'amore fra Gaetano Scirea e il campionato italiano I gol di Maradona e la potenza di Gullit Le invenzioni di Baggio e le acrobazie di Vialli Icone di una passione Ecco perché, campionato, io ti amo